Primo consiglio comunale e operativo del nuovo parlamentino cittadino. Durante la seduta rigorosamente online, il tema principale affrontato è stato quello della variazione al piano triennale delle opere pubbliche. A presentare le modifiche, il neoassessore ai lavori pubblici Alessandro Casi. Sostanzialmente si tratta dello spostamento al 2021 di alcune opere, vista l'impossibilità di concludere determinati interventi entro il 2020 causa pandemia che ha rallentato tutto. E sono la rotatoria dell'area Lebole, il primo lotto dei lavori all'incrocio di Santa Maria, il consolidamento della scuola materna Leonardo Bruni, la realizzazione del nuovo centro lavaggio alla scuola Santetani, la manutenzione straordinaria della scuola di indicatore. Inserite invece ex novo la realizzazione, grazie a un cofinanziamento ministeriale, di un nuovo canale collettore per raccogliere le acque provenienti da Castelsecco. Ci sono poi parziali modifiche e aggiustamenti nel finanziamento di alcune opere, come quelle per la copertura della scuola Fonterosa, dove la partecipazione ad un bando ministeriale permetterà di ottenere 24.000 euro di ulteriori risorse, mentre per la ciclopista di collegamento Salleo Pratantico, la partecipazione ad un bando regionale consentirà di passare da un finanziamento di 75.000 a uno di 90.000 euro. Alla manutenzione di mobili e strade andranno poi nuove risorse, grazie a proventi da concessioni edilizie, piano delle alienazioni e contributi ministeriali. La palestra del karate a San Laurentino sarà infine finanziata con 170.000 euro di proventi che vengono da concessioni edilizie. La variazione è stata approvata con 20 voti favorevoli, 5 contrari e 2 astenuti.